Bentornati all'appuntamento settimanale con TG Tech, scopriamo subito insieme quali sono i titoli di oggi 25 giugno 2009. Accordo Intel Nokia, mid e software open source. Microsoft Zoom HD potrebbe essere sviluppato su piattaforma Nvidia Tegra. HP Mini 5101, un netbook professionale. Steve Ballmer, nuova Xbox 360 nel 2010. Kodak manda in pensione la pellicola Kodak Rome. Nokia e Intel hanno deciso di unire gli sforzi per sviluppare nuove piattaforme mobile basate su architetture Intel. Da una parte l'accordo e l'occasione per Intel per mettere finalmente a frutto tutto il lavoro fatto in ambito mid, dispositivi che per ora non hanno ancora sfondato nel grande pubblico, sfruttando la grande leva che può avere un nome come Nokia. D'altra parte il colosso finlandese non è nuovo a questa filosofia avendo già provato a intraprendere questa strada con i suoi N800 e N810 Internet Tablet, che però al pari dei prototipi mid di Intel non sono riusciti a catalizzare l'attenzione del grande pubblico. Dal progetto Nokia Internet Tablet il nuovo accordo è reddita l'attenzione per il software open source con l'obiettivo di sviluppare tecnologie comuni da utilizzare per i progetti di piattaforme Moblin e Memo. Inoltre Intel e Nokia hanno siglato un accordo in base al quale Intel potrà acquisire in licenza le tecnologie modem Nokia 3G HSPA, che unendosi all'esperienza di Intel in campo WiMAX potrebbero dare vita un mix davvero interessante. Microsoft da tempo ha cercato di cavalcare l'onda dei media player introducendo sul mercato Zune. Questo dispositivo però forse non ha raccolto tutto il successo sperato da Microsoft. L'intrattenimento multimediale resta però tema chiave per la casa di Redmond ed essa continua ad investirci. Già nel prossimo autunno potrebbe arrivare la nuova versione di Zune denominata Zune HD e stando alle indiscrezioni in rete è molto probabile che il dispositivo possa essere basato sulla piattaforma hardware Tegra sviluppata da NVIDIA per i dispositivi mobile. Al momento non è arrivata conferma da parte di NVIDIA ma Tegra sembra la piattaforma adatta per Zune HD, almeno stando alle prime indiscrezioni che circolano in rete, che parlano di un terminale basato su Windows CE in grado di supportare browser come Explorer e Mozilla, la riproduzione video HD e la possibilità di collegamento Wi-Fi. Anche HP guarda con interesse al nuovo segmento dei netbook professionali. Il nuovo HP Mini 51-01 si rivolge proprio a questa categoria puntando su un display retroilluminato a led da 10,1 pollici con risoluzione 1024x600 o 1366x768 pixel, cover del pannello in alluminio e altre parti dello chassis in lega metallica. La tastiera è realizzata a elementi isolati, sono disponibili tre porte USB 2.0, un'uscita VGA e un connettore RJ 45 Ethernet. Sul fronte wireless HP Mini 51-01 affianca a Bluetooth 2.0 e Wi-Fi anche un modulo 3G integrato. Per quanto riguarda la dotazione hardware HP 51-01 non si discosta dalla concorrenza, il processore è il solito Atom N280 e il chipset Intel 945 GSE. Per lo storage interno HP preannuncia configurazione dotata di hard disk da 80 GB a 7200 RPM oppure affidabili soluzioni solid state drive. Il prezzo di partenza di questi netbook professionali è fissato in 449 dollari ma al momento non si hanno notizie in merito all'arrivo del prodotto sul mercato italiano. Steve Ballmer, CEO di Microsoft, ha messo fine a indiscrezioni che circolavano in rete confermando che nel 2010 la casa di Redmond introdurrà un nuovo modello di Xbox 360. Ballmer ha parlato di un sistema di interfacciamento naturale con telecamera integrata e capacità di riconoscere la voce dei giocatori senza però citare direttamente Project Not All. È probabile che Microsoft stia pensando a una nuova Xbox 360 con il bundle Project Not All. Si tratterebbe di una revisione marginale dell'hardware, magari con l'introduzione della scheda madre Vahalla, ma con il mantenimento delle caratteristiche di base di Xbox 360, senza quindi introdurre una nuova generazione di console da un punto di vista hardware. Kodak è un marchio storico della fotografia ed è stata una delle prime aziende a proporre soluzioni come le lastre secche in grado di mettere la fotografia alla portata di tutti. Kodak è stata anche protagonista del passaggio analogico digitale, ma poi forse non ha saputo proporsi con il giusto successo né da una parte né dall'altra della barricata. Ora, con la netta contrazione del mercato dell'analogico, dopo ben 74 anni di produzione, esce dal mercato la pellicola Kodak Chrome, la famosa invertibile per diapositive molto amata dal pubblico. Da notare che negli ultimi anni questa pellicola veniva sviluppata solo nei laboratori Kodak statunitensi. Pasta finissima, un'elevata latitudine di niposa e una brillante resa cromatica sono gli aspetti che hanno reso celebre questa pellicola. Secondo Kodak, le scorte attualmente in magazzino della pellicola dovrebbero durare fino all'autunno. Il settimanale appuntamento con TG Tech termina qui, vi rimandiamo alla prossima puntata.